Nella sede della città metropolitana di Torino sono state presentate le iniziative del programma Valdesi 850 anni, con cui nel Pinerolese, ma anche nel resto d'Italia, si rifletterà sulla storia e sull'importanza sociale e culturale del movimento che prese le mosse dalla predicazione di Pietro Valdo a Lione, che la Chiesa Cattolica considerò ben presto come eresia. Le celebrazioni inizieranno sabato 3 febbraio con il convegno Eresie di ieri, Eresie di oggi, in programma dalle 15.30 alle 19.30 nella biblioteca della Casa Valdese a Torrepellice. I lustri storici dei movimenti religiosi ed esponenti della Chiesa Valdese rifletteranno sulle prospettive del dialogo interreligioso, della libertà di culto e di pensiero e della tolleranza. Quali aspetti in particolare saranno approfonditi in questo convegno a cui parteciperanno storici di fama internazionale, possiamo dire? Soprattutto proveremo a ripercorrere gli 850 anni del movimento valdese, cioè quindi dalla sua nascita, dalla conversione di Valdo, fino alla Chiesa Valdese e oggi. E proveremo a farlo attraverso gli appuntamenti che nell'anno noi come Fondazione Centro Culturale Valdese e la Chiesa Valdese nazionale abbiamo organizzato. Quindi si partirà e si scandiranno le varie tappe. Si partirà dal 3 febbraio, dal convegno sulle Eresie, andando avanti fino all'inaugurazione della mostra, di cui qui dietro abbiamo l'immagine che guida, e poi delle passeggiate o delle gite, che però non sono passeggiate o vere gite, ma sono percorsi di scoperta o riscoperta della nostra storia, perché la storia degli 850 anni dei valdesi è la storia dell'Europa, in qualche modo. È un movimento che si è diffuso, partendo da Lione, ma si è diffuso su tutto il territorio europeo, che ha avuto un momento importante alle valli valdesi, e quindi Piemonte, ma poi si è sviluppato. Noi organizzeremo questi percorsi a Torino, ma anche in Cecchia, in Austria, in Francia, quindi proveremo ad andare dietro a questa storia. L'ultima cosa che faremo è spiegare, provare a spiegare, perché non è semplicissimo, un'opera d'arte, un'opera d'arte che verrà inaugurata il 26 ottobre e che lascerà una traccia tangibile di quest'anno che stiamo vivendo e che in qualche modo riassumerà il nostro percorso. Presidente, in questi mesi, in questi eventi, si parlerà di concetti importanti, come eresia, tolleranza, rispetto delle minoranze, libertà di coscienza. Ecco, la presenza dei valdesi in 850 anni, quanto e come ha segnato le valli pinerolesi? Beh, io direi che non ha segnato soltanto le valli pinerolesi, ma è stato di stimolo la presenza valdese anche prima per il Regno d'Italia, prima ancora per il Ducato di Savoia e poi anche per la nostra Repubblica, perché è comunque una minoranza che si è collocata in questa ricerca dei valori che lei ha citato prima, che non sono valori mai acquisiti, casomai vengono estesi a fasce sempre più ampie della popolazione. Questa è stata una costante in tutti i centenari, per esempio, quello del movimento valdese, ma anche quello che ricorda il rimpatrio dei valdesi dall'esilio svizzero e soprattutto dell'emancipazione del 1848. Sempre viene ricordata questa idea di non solo tolleranza, ma cittadinanza, come valore anche per altri, quindi non soltanto ricordato per se stessi e per le nostre comunità, ma anche come servizio, come obiettivo per gli altri. Sindaco, la visita del Presidente Mattarella a Torre Pellice qualche mese fa ha certificato quanto è importante la presenza dei valdesi nelle valli del Pinerolese e quanto è importante per l'identità culturale di queste valli e di tutto il Piemonte. Assolutamente vero, assolutamente sì. Oggi cominciamo i festeggiamenti di questi 850 anni della presenza della Chiesa Valdese nelle nostre valli, una presenza strategica, fondamentale, di identità culturale e di tradizione. Riusciamo, le nostre valli riescono ad avere una visione anche globale, culturalmente meno chiusa, ma con un respiro internazionale, proprio grazie alla presenza della Chiesa Valdese che ci onora e con la quale si riescono a fare cose molto molto interessanti.